Elisabetta Bucciarelli declina chi ha bisogno di te Mercoledì 20 settembre alle ore 18.30 al Teatro Franco Parenti a Milano, Sala Comea, in Via Pier Lombardo XIV sarà presentato il libro di Elisabetta Bucciarelli Chi ha bisogno di te Edito da Schira Con l'autrice intervengono Iaia Caputo e Ranieri Polese. Poesie e letture di Anna Toscano e Eleni Molos. Canzoni di Barbara Cavalleri. Modera Chiara Beretta Mazzotta. Presenti Gianni Biondillo e Alberto Tonti, curatori della nuova collana Schira note d'autore. Esistono molti modi per innamorarsi e altrettanti per chiudere un amore. Ci sono uomini che sanno aspettare, padri che cercano le parole per crescere i figli e poi c'è Mary, una giovane donna con un dono speciale. Vicino a lei una madre che la educa ai sentimenti con le canzoni dei Quen. Mary riceve biglietti anonimi scritti a mano e mentre cerca di scoprire chi sia il mittente, un marito tradisce la moglie e un altro viene abbandonato per disamore. Tra un messaggio e una domanda sbagliata, un'ape in trappola e una canzone di Freddy e Mercury, ciascun personaggio arriverà a svelare a se stesso più di un mistero e forse a intuire la bellezza legata all'imprevedibile dell'esistenza. Chi ha bisogno di te è una storia che parla di identità e di come il nostro modo di amare non dipenda solo da noi ma, soprattutto, dagli incontri che la vita ci propone. Ingresso con biglietto di cortesia di 3,50 euro. Grazie a tutti.